E siamo da Walford, a Wonderful Walford, davvero meraviglioso questo negozio a Castel Romano Outlet con Vanessa, lo dico all'italiana anche se tu sei francese Vanessa? Oui, oui, bonjour, benvenute a tutte! Beh è un negozio che ci mette davvero in allegria, perché ci piace la lingerie, ci piacciono gli abiti, ci piace tutto, e ci piace essere femminili e ci piacciono le promozioni, perché cari amiche c'è una promozione meravigliosa, tre per due, quindi tu acquisti tre capi, e adesso vedremo che capi, parliamo di lingerie, di pizzo, il pizzo è qualcosa che io amo follemente. Il pizzo assolutamente, il pizzo Walford, un modello bellissimo, femminile, sensuale. Guardate che cos'è, quindi questa promozione tu puoi acquistare tre prodotti che poi puoi abbinare come desideri, li scegli, adesso ne facciamo vedere qualcuno, però ne paghi due solamente. Esatto, uno in omaggio. Wow, davvero stupendo, quindi ti fai un bel completino per esempio, e in più ti prendi un secondo slip, oppure un secondo reggiseno, oppure anche un body, guarda che cosa sono i body di pizzo. Pizzo, beh stupendo, questo è anche un sottogiacca. Assolutamente, questo come sottogiacca, leggerissimo. Elastico, l'elasticità, perché quando parliamo di Walford parliamo anche non solo di femminità, di qualità, di tessuti meravigliosi, che sono proprio delle carezze sulla pelle, che resistono nel tempo, ma sono davvero longevi. Quindi, non vorrei dire che magari vivranno più di noi, perché noi speriamo di vivere più di loro, però sarà una bella lotta insomma. Guardiamo insieme, per esempio anche qui, da questa parte dove c'è la nostra microfibra che è comodissima. Comodissima e meravigliosa sulla pelle, proprio piacevole, fresca, traspirante, non si rovina nemmeno lei, si asciuga presto, è analergica. Se la pelle è delicata, come nel mio caso, è perfetta. Tutti i requisiti per fare un ottimo acquisto, con una promozione fantastica. Fantastica, per esempio, tanto per capirci, quanto costa questo reggiseno e quali sono le sue caratteristiche? Allora, per esempio, prendendo questo reggiseno, noi proponiamo ai nostri carissimi clienti il 35%, quindi dal prezzo outlet, quindi parliamo, 35% dal prezzo boutique, da 108 euro, 70 euro. Wow, beh, per un capo firmato Walford, che durerà nel tempo, ma tantissimi anni, è davvero un prezzo eccezionale. Poi però, si acquisti anche la mutandina e quindi paghi questi due prodotti, dopo avrai regalato un terzo, magari, il reggiseno, un terzo prodotto. Assolutamente, assolutamente. Allora, per esempio, prendendo questo modello qui, quindi il triangolo, questa ha la caratteristica di non avere il feretto, quindi noi lo consigliamo molte alle persone che hanno avuto magari un intervento, una protesi. Le donne che hanno rifatto il seno, praticamente tutte, di questi tempi tante. Un po', un po'. E allora, poi abbiamo questa parte dove c'è la microfibra, che è morbidissima, in più ha un sostegno fantastico. Il tulle all'interno e questo bellissimo pizzo floreale, quindi comodità, resistenza e femminilità. Veramente. Poi le bretelline, ovviamente, sono regolabili. Regolabili, assolutamente. E le misure, quali sono? Allora, per questo modello va a S, M, O, L. Ok, quindi per esempio la L va bene anche per una terza, una quarta. Una terza, quarta, esattamente. Ok, perfetto. Senti, e vorrei chiederti, Vanessa, la differenza tra questo modello e quest'altro modello. Allora, questo sarebbe sempre un triangolo, in più è dotato di un feretto, quindi per un sostegno diverso, nel senso che, per esempio, ha un seno un po' più voluminoso. Più rilassato. Esatto. Più grande anche, se hai un seno più grande. Più rilassato e più grande, va a dare un sostegno a un po' più forte. Ok, perfetto. Però vedete la fantasia del pizzo, bellissima, veramente molto sofisticata, è la stessa. Pensate anche a una bella festa, a un matrimonio, a una festa di matrimonio, da regalare a una sposa anche questo completino. Completino che poi potrebbe essere anche fatto, se avete bisogno di dei reggiseni, per esempio, da due reggiseni e un body. Capite? Potete fare come volete, cioè voi comunque comprate tre capi che scegliete, ma ne pagate solamente due. Assolutamente, quindi ci sono, diciamo, c'è tanto da sbizzarrirsi, quindi puoi prendere il triangolo con il feretto o senza feretto. Certo. Il modello anche, per esempio, c'è l'altra versione push-up. Ah, vediamo il modello push-up. Quindi qui abbiamo la coppa imbottita, giusto? Esatto. La coppa imbottita e la consigliamo a chi ha poco seno, per esempio. Sì, o chi vuole, per esempio, magari un décolleté, un pochetto più voluminoso. Certo, e per esempio quando abbiamo dei vestiti molto scollati. Assolutamente. E vogliamo proprio, magari mettiamo anche una bella collana che non copra troppo, con la bronzatura, beh, saremo stupendi. O magari da mettere con una magliettina in tulle, trasparente, quindi va a dare più luce anche sulla parte del reggiseno. Che meraviglia, guarda. Tra l'altro, Walford è anche un brand verde. Questo mi piace moltissimo. Sì, assolutamente, perché noi abbiamo tanti articoli sostenibili, quindi il fatto che i nostri articoli hanno una longevità molto duraturi. Sono molto duraturi, quindi hanno una longevità, già comprende il fatto che durano tantissimo tempo, sono longevi. Assolutamente, quindi questo va ad aiutare comunque il fatto di non produrre tanti rifiuti, perché comunque questo qui dura semplicemente una vita. E di questi tempi anche questo ci piace moltissimo. Ci piace anche moltissimo la promozione di questi tempi, dove tutto aumenta, tutto è caro, la benzina è cara, il supermercato spende il triplo. E invece in meravigliosi posti come Walford hai il massimo proprio della qualità, del comfort, della femminilità e hai anche la promozione. E il massimo della sensualità, assolutamente. Il massimo della sensualità. Walford, ti aspettiamo! No!